Carissimi telespettatori, telespettatrici, che so che siete in tanti lì davanti al televisivo, fate una roba, fate una roba, ragazzi, prendete un attimino carta e penna. Prendo anche io? No, 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 sto aspettando che... C'è un negastensivo nella carta e carta. Posso io confermare che... Eh, carta e penna, penna. Scrivete, scrivi la penna. Ah, vuoi una penna? No, scrivi la penna, signora. C'è pure una penna granata. Scrivete la penna, provate a fare così. Eh, manca scrivi. Fate... Eh, eh, scrivi. Allora, carta e penna, perché segnate questo indirizzo. Allora, www.baraondaweb.com Eh, ripeti insieme, ripeti insieme a noi. Allora, www.baraondaweb.com E lì troverete ciò che non trovate da nessuna parte. Grazie a tutti.